Negli Atti degli Apostoli c'è scritto, tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case, li vendevano, portavano l'importo di ciò che era stato venduto, e lo deponevano ai piedi degli Apostoli, e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Quindi la famosa frase di Karl Marx, a ciascuno secondo il proprio bisogno, è parzialmente presa da questi passi biblici. Questa è una cosa che può non piacere sia ai cristiani, in particolar modo ai cattolici, sia ai sinistroidi. I primi cristiani praticavano il comunismo assoluto dei beni, che non era il comunismo marxista, secondo cui i mezzi di produzione erano proprietà dei cittadini. Io mi chiedo ancora perché i cristiani ai sinistroidi continuano a farsi la guerra. L'utopia di Santo Maso Moro, Santo Masmur, e la città del solito Maso Campanella, erano delle utopie di tipo comunista. Ma non solo, ci sono stati ad esempio i zappatori e i rivelatori durante la rivoluzione inglese, oppure gli anarcho-cristiani e i socialisti e i comunisti cristiani nei tempi più recenti, tra cui la teologia della liberazione, condannata dalla Chiesa Cattolica, perseguita soprattutto dai gesuiti e anche da Papa Francesco, che dava una lettura marxista e rivoluzionale del Vangelo. Crescente Chavez, che è stato sia socialista che credente, a suo dire. In Italia abbiamo avuto Don Tonino Bello, che si riuscì a chiamare Don, però in realtà era un vescovo, e era vicino agli ambienti di sinistra, e scrisse anche sui giornali comunisti, il quale Don Tonino Bello lo vorrebbero beatificare, e è ufficialmente iniziato il processo di beatificazione di questa persona. Però è ovviamente una cosa molto polemica e controversa, che un vescovo praticamente comunista diventi un beato, addirittura santo. Poi abbiamo avuto anche Don Milano, di cui non saprei se dire se è un comunista oppure no, sta di fatto che era nato per essere un obiettivo di coscienza, e aveva comunque idee abbastanza di sinistra. Lui si opponeva a ogni forma di dittatura, anche quella sovietica ovviamente. E di recente abbiamo avuto Don Andrea Gallo, che molti di voi sapranno sicuramente chi è, che è morto anche da poco, il quale si definiva però un anarchico, un compiere di strada, con idee ovviamente molto 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 di sinistra.